che hanno acquisito particolari benemerenze nel campo economico, sociale, del lavoro o per le cariche pubbliche ricoperte. Commentatore, dottor Alberto Longatti. Consegna alla reticenza il pretetto di Como, Bruno Corda, unitamente al sindaco di Como, Mario Lucini. Il commentatore Alberto Longatti ha sempre svolto l'attività di giornalista e operatore culturale, saggista, storico, critico d'arte, occupandosi prevalentemente di letteratura, architettura, arte e teatro dell'Ottocento e Novecento, con un'intensa attività divulgativa riguardo a fenomeni e figure della cultura e vita della città di Como. Collaboratore di pagine culturali su quotidiani e riviste è stato redattore capo del settore cultura e spettacoli al quotidiano La Provincia di Como ed ha vinto nel gennaio 1979 il premiolino nazionale di giornalismo. Il commentatore Longatti è maestro del lavoro, presidente della famiglia Comasca e nel 2008 ha ricevuto dalla città di Como il prestigioso premio a Bondino d'Oro per la sua attività in campo culturale. Grazie. 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 Grazie.